Ehi, un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Boca Bionica. Se stai guardando questo video è perché voglio spiegarti una cosa molto importante per il tuo portafogli, per i soldi che andrai a spendere all'estero. Magari non qui da noi, magari in altre cliniche, però questo è un qualcosa a cui devi fare veramente molta attenzione. Come saprai è passato da poco il Natale, siamo all'inizio del 2020, è entrata in vigore una nuova legge in Italia che è molto importante, che ti permette di scaricare fino al 19% delle spese che tu vai a fare per la tua bocca all'estero. C'è un piccolo dettaglio però, c'è un piccolo però. La legge ti permette di scaricare l'importo fino al 19% sulle tasse che dovrai pagare solamente se fai il pagamento con metodo tracciabile, bonifico, oppure carta di credito, oppure per esempio assegni. In genere all'estero non vengono accettati gli assegni. C'è una piccola differenza che però non è da poco. Se tu vai all'estero, fai attenzione che per esempio un preventivo da 8.970 euro, quando tu vai a fare la detrazione potrebbe arrivarti a costare in realtà alla fine fatta la detrazione solamente 7.266 euro. Il problema qual è? Che non tutti all'estero accettano il pagamento white. Ok, bonifico, carta. Ci sono moltissime cliniche all'estero, non sto parlando dell'Italia, che ti chiedono il black. Il black, i pagamenti cash, quelli che non sono tracciati, è per un motivo semplice, io ti sconsiglio di fare questo tipo di pagamento, perché in caso di problemi non avresti alcuna tutela, non potresti mai dimostrare che ti sei curato là. E l'altro è che quando tu paghi black in realtà ti sta costando di più. Le cliniche ti chiedono di pagare black perché hanno dipendenti da pagare a black, oppure perché acquistano materiali nel mercato nero, oppure perché non pagano tutte le tasse, cercano di abbattere i costi, di fare i prezzi bassi, non pagando le tasse. Questo è molto pericoloso, perché se un'azienda non paga le tasse, diventa un evasore fiscale. Gli evasori fiscali hanno vita breve, anche all'estero. Ci sono cliniche che in futuro chiuderanno, proprio perché fanno il black. Questa azienda è un'azienda dove non si fa il black ed è una piccola, grande differenza che ci fa sopravvivere per i prossimi 20-30 anni. Noi dobbiamo sopravvivere perché poi tutti i nostri pazienti li dobbiamo tutelare negli anni a venire. Pagare black non ti dà garanzia in caso di ribalsa, quindi che ci siano problemi. Pagare black alla clinica non permette di essere sicura sul lungo termine. Pagare in nero non valorizza neanche i dipendenti. I nostri dipendenti hanno un salario che tutto viene versato in white. Sono i migliori dipendenti che si possono avere qua in città, proprio perché siamo una delle pochissime aziende all'estero che paga in bianco tutti i dipendenti. I migliori dentisti vogliono essere pagati in bianco perché con quei soldi possono chiedere poi alla banca i prestiti. E ora qua ti porto a una piccola riflessione. Come tu ben sai, la nostra è una clinica che richiede il pagamento totale anticipato del preventivo, la quotazione fatta a distanza. Questo ci permette di essere i numeri uno perché si sviluppa un gap tra quelli che sono i costi e quelli che sono i soldi incassati. Questo ci permette di fare investimenti in sviluppo, ricerca, avere i migliori dentisti, i migliori infermieri, le migliori tecnologie, espandere molto più velocemente di tutti gli altri, dare centri assistenza in Italia e fare espansione per i prossimi 30 anni. E questo nell'ottica della sicurezza che il trattamento dei pazienti venga supportato poi negli anni da un'azienda che rimane in piedi, rimane viva. In più le banche, quando noi abbiamo i pagamenti da parte dei pazienti che sono in bianco e non in nero, le banche ti danno credito. Le aziende a cui le banche danno credito sono le aziende che crescono di più. Cosa succede? Le aziende che fanno nero restano piccole, sono pericolose, non puoi essere tutelato da queste aziende e per di più, se non ti rilasciano fattura e hai fatto il pagamento con bonifico e carta di credito, la fattura che ti fanno è carta straccia, la puoi pure prendere e buttare, non vale a nulla. Solamente se fai pagamento white, allora ha validità in Italia per la detrazione. Ci sono le cliniche che ti chiederanno di pagare comunque black perché devono pagare i dipendenti in nero e acquistare i materiali in nero. Il problema è che tu comunque ci vai a perdere la detrazione fiscale e non sarai tutelato. Le cliniche invece che rimangono nel futuro sono quelle che possono essere supportate da una banca che fa loro i prestiti e che con i soldi che tu spendi all'estero ti fanno ulteriormente risparmiare in Italia ed essere tutelato grazie alla detrazione fiscale e alla fattura. Io ti faccio un saluto qua dal nostro dipartimento back office e tieni a mente le cose di cui ti ho parlato.